Bentornati o benvenuti ad una nuova puntata di Morsi dedicata al film ora in sala Mixed by Esi di Sydney Sibiglia Morsi è la rubrica di Popcorn e Podcast che recensisce in maniera del tutto sincera i film e le serie tv Con me come co-host quest'oggi c'è Gabriele Marino Ciao a tutti E ad accompagnarci durante questa puntata abbiamo l'onore di ospitare lo sceneggiatore del film di cui andremo a parlare ossia Armando Festa Benvenuto Armando Ciao, grazie Ciao Allora, visto che sei ospite, il primo ospite di Morsi, io direi di fare iniziare tutto lanciando la sigla però la devi lanciare tu Ok, sì Sigla e va la sigla No, no, tu disigla e poi la sigla va Perfetto, perfetto Allora sigla Gabriele, il tuo primo podcast Perché è la prima volta che partecipi attivamente al podcast Mi raccomando, non mi fa fare brutte figure, ci abbiamo pure l'ospite Speriamo Speriamo, speriamo Ok, innanzitutto volevo dire, Armando grazie per essere qui Grazie a te Per averci accettato l'invito Io vorrei iniziare in maniera un po' inusuale Nel senso, ti va di raccontarci un po' Che cosa hai fatto tu per riuscire ad asivare e a scrivere il film Mixed by Ezri Insieme a Sidney Sibira Sappiamo che ha fatto, prima di questo, ha fatto un costometaggio con Sidney Quindi, probabilmente Io e Sidney ci conosciamo da, oh Dio Santa Adesso saranno tipo 15 anni, ma non mi ricordo esattamente Perché io prima, vabbè, io ho un excursus che c'è il curriculum Praticamente di uno psicolabile, perché ho fatto 1500 cose Vabbè, togli tutti i lavori da camerata e barista E quelli li abbiamo fatti tutti, quindi Per un periodo ho lavorato per Fox Che adesso non esiste più perché sarà comprata da Disney Però è un periodo di canali Fox E, presente, Sidney, prima ancora che facesse smetto quando voglio Si presentò come regista per dirigere un po' di spot per la Fox Io a quell'epoca facevo il creativo perché io tra le varie cose Faccio il copywriter, facevo e faccio ancora un po' il copywriter pubblicitario Po' scrivo per la TV, scrivo programmi televisivi, po' per il cinema Insomma, scrivo un po' di tutto Comunque, per la Fox facevo fondamentalmente il copywriter E quindi ci siamo conosciuti con Sidney Perché si è proposto, abbiamo fatto un po' di spot assieme Poi è capitato che qualche anno fa adesso, non ricordo esattamente quando Abbiamo fatto un cortometraggio Che fu presentato pure al festival di Venezia Che si chiama You See To No Molto carino, capissimo Grazie Boh, sì, forse sei sette anni fa Sì, è sette perché era in concomitanza con quello che gira io Sempre con Lino Guanciale, mi ricordo Ah, ok Sì, era con Lino Guanciale e Greta Scherano Il nostro E poi è capitato dopo un po' Praticamente ci... perché Sidney di Salerno, io sono di Napoli E tutte e due ci... insomma Ci hai capito di parlare di questo... delle cassette di Mixed by Henry Insomma, era nata questa discussione perché insomma Parlavamo di quanto era strano quando all'epoca la musica era su un supporto fisico E tu praticamente dovevi... come praticamente... Ero un po' un parallelo col cinema adesso con l'offerta sulle piattaforme Perché praticamente come all'epoca dovevi fare proprio uno sforzo fisico-economico Cioè dovevi andare al negozio di dischi Spendevi 15.000 lire per comprarti il tuo disco, la tua cassetta E fondamentalmente poi ti ascoltavi solo quello per le due o tre settimane E lo sapevi a memoria Adesso con Spotify c'hai una... l'immensità di... diciamo io Sono gli ultimi tre giorni che ho ascoltato cinque dischi nuovi E da questa vista è comodo però obiettivamente c'è la fine di... C'è un ricambio super veloce E la stessa cosa ne parlavamo anche col cinema, con le piattaforme e il resto Insomma comunque da tutto questo poi ci venne in mente che tutti e due avevamo queste cassette di Mixed by Air Beh non solo voi due, cioè anche io e Gabriele essendo campani abbiamo nelle nostre... Io mi ricordo la 500 Fiat di mia madre che ci aveva la Mixed by Air con le classiche... A Napoli in Campania andava fortissimo Poi ho scoperto che andava forte anche molto in Puglia, tipo non lo sapevo in Campania Comunque noi in Campania ce l'avevamo praticamente tutti E niente, quindi ci veniva in mente che ho detto Ma forse sarebbe carino approfondire la storia di Mixed by Air E quindi niente, io ho cercato mi sembra su Google E ho scoperto che c'era tale... il Mixed by Air era in realtà tale Enrico Frattasio Poi sono andato su Facebook e c'era un vario Enrico Frattasio Tra cui però uno come foto del profilo C'era la cassetta Mixed by Air Quindi ho scoperto da questo lieve dettaglio che forse era lui Allora possiamo dire che in realtà il film l'ha scritto Zucke Grazie Zucke Grazie Zucke Quindi poi abbiamo contattato Enrico Ci siamo incontrati con Enrico, Peppe E poi loro due ci hanno presentato Simona Frasca Che era una giornalista che stava scrivendo un libro su di loro Ah quindi il libro non era ancora uscito all'epoca No, 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 lei lo stava scrivendo E aveva già fatto delle interviste a loro due Quindi poi ci ha passato le bozze C'erano queste interviste a due fratelli Infatti non ricordo, il film non è ispirato al libro Cioè non c'entra nulla il libro Abbiamo un po' preso dal libro Abbiamo fatto vari incontri con i fratelli frattati Da tipo una decima di volte a Napoli A intervistarle E poi da quello insomma Siamo partiti a sceneggiare fondamentalmente Questo è il succo di come è nato tutto Beh interessante Soprattutto perché le origini si sentono Pure a livello di scrittura Si vede molto che c'è del percorso insomma nel film Fa scrivere un genere a un romano Sarebbe stato un abominio Anche se però devo dire subito la prima cosa Non so se hai letto ultimamente il commento di Tony Tammaro Grande Tony Tammaro Guarda ho visto su Google che c'era Però non ho letto qual è il commento Vabbè lui ha parlato benissimo del film Ha detto è tutto molto bello Mi piace la storia di Erzy la conosco Ha detto che lui è stato Erzy copiava le cassette di Tony Tammaro Quindi vabbè tutta la critica E poi ha detto l'unica cosa è che dentro il film di Sidney Non c'era l'immondizia L'unica cosa è quella Troppo pulita Troppo pulita Negli anni 80 non era così pulita Solo questa qua Forse l'emergenza immondizia era un po' più avanti Secondo che era a metà anni 90 Che me la ricordo pure Vabbè prendiamolo come commento simpatia Gabriele io so che tu avevi delle domande Che volevi posere al nostro ospite Armando Festa Sì sì domande molto tecniche Dato che vabbè come già ho avuto modo Di diciamo di dirgli Congratulandomi con lui Perché veramente l'ho trovata Non scherzo forse la miglior commedia Gli ultimi vent'anni che abbia visto Sia per ritmo Qualità di scrittura Qualità di battuto Perché c'è una produzione Estrema di commedia in Italia Però che ricalcano un po' Tutte se stesse C'è una delle battute Che già sai dove vanno a finire All'inizio della scena Insomma sono un po' Viste e riviste Invece questo l'ho trovata Veramente fresca Intelligente E non c'è stato E aveva quasi i ritmi di una sitcom Sai come in tipo B20 Iori Che hai una battuta ogni 15 secondi Che devi fare Ho avvertito lo stesso ritmo Quindi Sono stato veramente Contento Sono uscito dalla 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 sala Con un doppio Un doppio stato d'animo Il primo era di soddisfazione Che bello Ti riuscire proprio l'anima Quando vedi questi film Dall'altro ovviamente Un po' di disperazione Pensavo Quando lo scrivo In un film così Sì sì è vero Mi accordo con Con Gabriele Rincarando Dicendo che Era un film Molto divertente E soprattutto Ma è banale La cosa che ci ha sorpreso E Gabriele Siamo andati a vedere L'anteprima Qui al Cinema Barberini Durante la visione Pensavamo a delle soluzioni Che potevano accadere All'interno A delle dinamiche Che potevano succedere Nel film E nell'attimo esatto In quello pensavamo Quella cosa succedeva Quindi Quindi significa che Non è banale Anzi È geniale Nel senso che tu Dici È giusto che È giusto che sia così Quindi Intanto Complimenti Complimenti Passiamo alle domande Prima domanda Che mi è venuta in mente È che Spesso si ha l'impressione Quando guardi i film Che la successione Degli eventi O delle scene Si scriva quasi da sola E uno diceva vabbè poi ovviamente succede questa Ah vabbè ovviamente succede quest'altro Eccetera eccetera Ma sappiamo che Non è assolutamente così Quindi ti volevo chiedere Qual è stata la scena O la sequenza Che vi ha dato più grattacapi Che Oppure insomma L'atto che vi ha Dato appunto più Problemi Insomma Che proprio non usciva Che non si Da quando i film non si No ma guarda Allora Alla fine questo è stato abbastanza È andato abbastanza liscio Fin da subito La sceneggiatura Perché Anche se la gente non ci crede Ma L'85-90% Le cose che raccontiamo Sono vere Cioè veramente Sono successe quelle cose Quindi noi abbiamo Naturalmente Romanzato Dialoghi Abbiamo condensato Alcune cose Però Tutti quei passaggi Cioè Il padre Veramente faceva Il whisky Falso Coltello Vendeva Piazza Garibaldi Veramente Hanno Trovato I masterizzatori Sopra le riviste Che potevano duplicare In due minuti Veramente c'è il marrocchino Che ha detto Ove l'andate Ove ammazzo E Angelo È riuscire a intervenire Veramente Angelo È andato in calero Perché È vera Quindi Cioè Alla fine Noi abbiamo Semplicemente Sbobbinato E Sicuramente Abbellito Romanzato Delle cose Quello è normale Però Veramente La storia già c'era Infatti Cioè Già dal primo incontro Abbiamo fatto Con Peppe Enrico Cioè Proprio per questo Abbiamo pensato No vabbè Si deve fare sto film Perché Già c'era C'era tutto Quindi non c'è stato Un momento di difficoltà A livello proprio Di storyline No Un momento in cui Dici Qua ci serve Assolutamente Questo elemento Per far andare avanti La storia Non avete avuto Problemi In questo senso No Guarda Al limite Quello che abbiamo fatto Tipo Che ne so Con il film Il Diciamo Quello che li Che li vuole arrestare E Fatto Soltato Una persona Al capitano Ricciardi Che simboleggia In realtà Tutti i vari Finanzieri Che hanno dato La caccia Non c'era Uno solo C'era un gruppo Di finanziere Però La diciamo Abbiamo Creato Questa antagonista Forte Incarnando In un solo Personaggio Per esempio Questo Ah beh Giusto Io ho avuto L'impressione Però magari Non so se è stata Solo mia Però Avete raccontato Tu e Sid Nella storia Di Buoni Fondamentalmente Cioè Si vuol passare Come se Enrico Frattasio Fosse Comunque Un Cattivo No Perché comunque È stato Stato in galera Ha fatto Chiaramente Ha commesso Un crimine Però Nel Però Io ho pensato Tutto il tempo L'atto di criminalità È nato dopo Successivamente Perché è stata fatta Una legge Successivamente A questa cosa Quindi fondamentalmente Lui era buono Fino alla fine Come avete fatto A muovere Tutta questa cosa Cioè A far credere Comunque al pubblico Che effettivamente La parte di Enrico È dalla parte buona Non è dalla parte Sbagliata Allora Innanzitutto Come hai detto Tu In realtà All'epoca C'era veramente Un voto normativo Per cui È stata possibile La cosa di Mixed by Harry Perché Leggi più rigorose Sono state fatte dopo Per la pirateria E quindi Hanno approfittato Anche appunto Questo Questo voto normativo Che c'era Poi Enrico In realtà Diciamo Aveva cominciato Come Allora Non so se anche voi Facevate le cassette Per la finanzata Ovviamente Io ne facevo cinque Non andavo in galera Perché Enrico Aveva pensato A farle cinque Poi cinquanta Per gli amici del quartiere Poi Ceduti È scappata la mano Sicuramente Diciamo L'innesco È lo stesso Fondamentalmente Poi lascia stare Ceduti Diventando una cosa Industriale E vendeva Ottantamila Cassette al giorno Infatti L'impeto Di amore Iniziale Per far conoscere La musica Agli altri Era quello Poi tutto Sapientemente Condensato Nella battuta E la scena Quando Enrico Sta con la fidanzata E lei Gli dà Il conflitto morale Insomma Gli dice Beh però I DJ normalmente Non vendono Tutte queste cassette Ma non so Quante cassette E io lo faccio A modo mio Bello Esattamente E lui diciamo È uno che aveva iniziato Diciamo tra virgolette Con buone intenzioni Come possiamo farle tutte Le cassette E poi a un certo punto Questa cosa Gli è esplosa Tra le mani E poi naturalmente L'ha pagato alle conseguenze Perché è andato in galera E hanno sequestrato tutta E ne hanno fischato tutto Quindi Figurasi Quindi ha pagato il suo Ecco diciamo Ma quindi Ma quindi anche L'aneddoto di Edoardo De Filippo Era al matrimonio Era E' vero Tante che Muovito la chicca E' stata girata Anche la scena Di Edoardo De Filippo In carcere No E però non è stata montata Che ne so Andrà nel DVD Non lo so Attenzione Spoiler 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 Quindi Io davvero Apro una parentesi Spero che Se uscirà Cioè sicuramente Uscirà il Blu-ray Ma che ci sia Il commento audio Del regista E dello sceneggiatore Perché è una cosa Che era l'unico motivo Per cui io compravi I DVD originali Bravo Effettivamente Ho una collezione di regia E invece non li sanno più C'è ormai Questi DVD Ma perché ormai Non ci rendono più tanto Mi sa Eh per peccato Guarda Io sono un Un collezionista Di DVD E li compravo Proprio per questo motivo qua Che c'avevo L'idea di guardare Un backstage Oppure un commento Del regista Per dare quella cosa in più Effettivamente Gli ultimi Negli ultimi 6-7 anni Non ne fanno più Queste cose qua Però voi che siete Voi che avete fatto Un film vintage Potreste dire Alla vostra casa Di distribuzione Facciamolo vintage Fino alla fine Sì Quante cassette Nel pezzo La vhs Esatto Vhs Ti vedo il commento del regista Ma poi sono convinto Che come i dischi Ti tornerà di moto La vhs Adesso i dischi Sei in vinile Sì Però Perché se come il nastro Poi si smagnetizza Poi non c'è Tu si rovina Mentre il vinile dura Sì È un po' più difficile Però Vabbè Vabbè Comunque A parte l'aneddoto Che già esisteva Comunque È una delle due scene Che secondo me È stata costruita In maniera epocale Perché là Potevi subito In quella scena Sacrificare L'aneddoto Invece è stata costruita Con lui che dice Sono molto triste E poi racconta Di Edoardo Cioè Beh sei triste Perché non ne hai capito E poi là c'è la battuta Che ti giuro L'ho visto due volte Al cinema E per due volte Il cinema è crollato C'è da dire C'è da dire pure Che Emanuele Palumbo L'attore che interpreta È bravissimo Ma tutti gli attori Che interpretano Questo film Sono bravi E anche lì C'è stato Sempre perché Dobbiamo anche un po' Decensire la cosa Sono stati tutti bravi È un cast perfetto Per questo film No Sono tutti bravissimi È vero No ma pure poi Che ne so Gifune Francesca Ileva Sì Sì No ero bravissimo Adriano Pantaleo Bravissimo Sì Sì Bravissimo Adatto Adriano Pantaleo Era in classe con me Quindi Stava andando in un parco Sì 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 Io lo conosco bene Ma lo conoscevo Già da prima Adriano Vabbè È benissimo Che il bambino Io speravo che me la cava Sì 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 Io ricordo che lo prendeva Molto in giro Perché lui faceva All'epoca la pubblicità Della Leopard Degli zaini Leopard Non so se ve li ricordate Però lui poi andava a scuola Con quello invicta No? Quindi Ne prendeva di tutti Senti io volevo chiederti Qual è stata la scena Che è stata sacrificata All'interno del film Che però Contra questa di Ad Edoardo Sì questa qua di Edoardo Ok Adesso che sono state tagliate In montaggio No però aspetta aspetta Una scena che secondo te Poteva dare qualcosa in più Che però è stata proprio Sacrificata all'ultimo Perché Dovevate rientrare Magari nel minutaggio Oppure non lo so Oppure non l'avete proprio girata Perché non c'era modo Di girarla Qualcosa di molto fondamentale Secondo te Che poteva Perché c'era nella sceneggiatura E non è stata Sì Ma guarda No di fondamentale Non c'è niente Perché poi Altrimenti ci sarebbe stato C'era fondamentale C'erano Ti ho detto Varie scene Di contorno Tra cui appunto Questa di Filippo Oppure quando cominciano A guadagnare Si vedevano Che ne so Che Giuseppe Va a comprare la casa Dei suoi sogni Assieme alla moglie Eccetera eccetera Quindi c'erano un po' Di scene Che sono state tagliate Però no Di fondamentale No direi assolutamente nulla Tutti i passaggi Tutte le scene fondamentali Sono rimaste Tra l'altro Bellissimo L'utilizzo Dell'immagine Di repertorio Di ok prezzo è giusto Per identificare Quell'età Del consumismo Dove il comprare cose Insomma E' proprio l'inizio Della nostra società Praticamente Brava Che poi Gli anni Il lato Sì sì Struvendo Un tutto È passato Tanto che riprendono Un po' di programma C'era un certo punto Che si intravede Drive-in pure Che lo stanno Esatto E poi si sente Il pranzo è servito Da subito fondo Abbiamo messo un po' di cose Che richiamavano l'epoca Bellissimo Quello Diciamo L'impostazione Delle scene Che abbiamo visto Nel film Sono molto fedeli Alla sceneggiatura E quindi diciamo Tutto questo Il ritmo E la Insomma La struttura Di ogni scena Della preparazione Alla battuta È stata È stata molto fedele Come era stato scritto Oppure Hai notato Che gli attori Insomma Hanno dato Un grosso contributo Insomma Hanno magari Con delle trovate Con delle Improvvisate Ogni tanto Sicuramente Ci sono delle trovate Degli attori Però devo dire la verità È stato Parecchio fedele Alla sceneggiatura Ma anche perché L'ho scritto Con Sidney Che è il regista Cioè Questo ha aiutato molto Perché Insomma Non è sempre così Insomma A volte Che scrive Il regista Un po' Lo stravolge Invece Avendo scritto Quello che dirigeva Anche già Lo scrivevamo Come Sidney Poi La vedeva Insomma Quella scena Quindi È anche il ritmo Delle battute Sì scusami No 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 Finisci Finisci No quindi anche Le battute Le stesse battute Il ritmo delle battute Diciamo Al 99% Sono uguali A come una scritta Sceggiatura Poi ovviamente Ogni tanto qualcosa Ma Vabbè Cosa ci sta Ma invece Nella scrittura Dei personaggi Oltre ad esservi Chiaramente ispirati A Ispirati Ai personaggi Reali C'è stato Un filo Di Che ne so Vi siete ispirati Anche ad altri personaggi Del cinema Perché ti faccio Un esempio A me Mi è parso Di vedere All'interno Della pellicola Molti riferimenti Che ne so Massimo Troisi Al teatro Di Bucci Rosso Piuttosto che Casa Grande Quindi voglio dire Vi siete anche Un po' ispirati A quel tipo Di teatro A quel tipo Di recitazione Nella scrittura Troisi molto Anche perché Troisi è Palesemente citato Avrete notato Perché la bella Ma purete Che lui C'ha lo stesso Maggiore Di Il ritardo No no Aspetta Aspetta Diciamolo bene Diciamolo bene Questa cosa Questa è una cosa Molto molto bella Il protagonista Enrico Indossa In varie scene Un maglione Giallo Con delle righe rosse Vabbè Lo vedrete Che è lo stesso Identico maglione Che indossava Massimo Troisi Scusate il ritardo Adesso non so Ricordare Scusate il ritardo C'era questo famoso maglione Che nel film Era del fratello Di Massimo Troisi Che faceva L'attore D'era ricco E Massimo Troisi Lo voleva Dice Vabbè Ma se tutto Metto e chiura A me Che Alla fine Se lo prendeva Massimo Troisi E lo indossava E quindi Quello è chiaramente Una situazione Assolutamente Quindi assolutamente Troisi Ma come anche Il cinema Di Luciano De Crescenzo Così Barro Bella Vista Ambientate proprio Nella Napoli Negli anni Di metà Neottanta Quindi Sicuramente Ci sono dei riferimenti Forti Del cinema napoletano Di quegli anni Ma quello è nato È nato Vedendo la recitazione Di Enrico Oppure Diciamo È stato poi Era già È stato Voluto È stato Voluto Quella Chiaramente Lo ribadisco Andate a cinema Lo dico agli ascoltatori Andate a cinema Perché io spero Che rimarrà Abbastanza a lungo Poi È un film Che va su piattaforma Se non sbaglio Andrà su Netflix Credo quest'estate O dopo l'estate Va bene Comunque Si replicherà Quello che fu Per l'Isola delle Rose Quindi sicuramente Andrà su piattaforma Ma è da vedere al cinema Però appunto Voglio dire proprio Questa cosa Andare al cinema Perché è da vedere al cinema Perché ci sono Molti dettagli Che poi In tv A casa Si perdono Gabriele è andato Due volte al cinema Quindi Voglio dire Mi sto preparando Per la testa Mi sto portando Tutti No no È un film È stato un film Di quelli Che veramente Raramente Allora Nel lavoro Che facciamo Qui Di redazione Fondamentalmente Consigliamo I film Da vedere Però questo film Mixed by Ezri Lo consiglio Di cuore Perché è qualcosa Di nuovo Vai al cinema E vedi qualcosa Di mai visto Se ne dice spesso Questa cosa Si dice spesso Pure su Su altri geni Su altri film Come può essere Stato Lo chiamavano Giglobo C'è C'è Voglia proprio Di fare qualcosa Di nuovo E ci si riesce E Sidney Sibilia È quel regista Di questa generazione Che riesce Rimanendo in Italia A fare un prodotto Che guarda molto All'estero Cioè anche Come è stato costruito E io qui parlo Anche a te Come sceneggiatore Anche da struttura Secondo me È molto italiana Ma in realtà Guarda un po' A strutture Anglosassoni Internazionale Certo Sì 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 Ma secondo me Il segreto È proprio Quello che diceva Prima Armando Cioè Il fatto di Scrivere Già Perché Per me La comicità È matematica Cioè È un fatto Di tempi E di ritmi E di Della parola giusta Di numero Di battute giuste Prima di arrivare Alla Climax Della scena Quindi Se lo si interrompe Se lo si cambia Se lo si improvvisa Non funziona Invece Sì Secondo me Si è vista Proprio Quella schematicità Per cui È proprio Ogni scena Era veramente Di una precisione Scriverata Quindi Tempi Molto precisi In finire Di parlare Uno Cominciava Subito L'altro Sovrapponeva Esatto Esatto Tipo La scena Di quando Enrico Torna a casa A dare la cassetta Che ha fatto Per il fratello Che non si sta aggiustando i capelli Mentre c'è l'altro fratello Che vuole andare a vedere Arrestando E quindi là È tutto Prevento Un botto e risposta Completamente serrato Di battute Sì 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 No che poi Capito Già avevate preparato In sceneggiatura Quindi era già Previsto In quanto tempo Avete scritto La sceneggiatura Quanto è durata Tutta la Il lavoro Di scrittura Anche perché In mezzo Poi Sidney Ha fatto L'Isola delle Rose Che l'aveva già scritto prima In realtà Quindi Allora ti dico Avremmo scritto Per un Allora Avrei scritto io e lui Per un paio d'anni Però c'è stata Una pausa Di un Sei Sette mesi In mezzo Quindi insomma Diciamo Tre anni Con tutta la pausa In mezzo Facciamo così Anche questo Dimostra insomma La qualità Di un prodotto Perché ormai I tempi sono Due mesi Tre mesi E si vede Benissimo No ma poi Non siamo scesi Penso Una decina di volte Andavano a intervistare loro Per Per Il materiale Per acquirire il materiale Siamo andati a casa loro Per vedere come è Casa loro Per Per riparla Senza fare Senza fare Spoiler Io invito A rimanere Al cinema Anche dopo I titoli di coda Perché c'è una scena Una scena Di tutti i titoli di coda Cioè proprio Fino a quando Accendono le luci Dopo Tutti Sì Rimanete in sala A vedere Questa scena Post credit Che secondo me A mio parere È una scena Che è Geniale Ma soprattutto È funzionale Cioè è una cosa Questa scena Risponderà Alla domanda Che si pongono Dall'inizio del film Ed è una cosa Che è bellissima Per come è stata costruita Infatti io pensavo In un Megafin Fino alla fine Poi è stato C'è stata questa Questa risoluzione Geniale Nella sua semplicità È molto molto E chiaramente Senza spoilerare Quella è inventata È tutta una roba inventata No no Quello è vero Quello è vero Ah ok Senza spoilerare Quindi è veramente Funzionava veramente così Facevano veramente così Facevano veramente così Guardate Dico Fattaccio E' un genio Cosa fa lui adesso Per vivere Cioè Allora Produce Scatole da regalo Fondamentalmente Che ne so Se vai Che ne so A San Valentino Vuoi regalare Alla tua fidanzata Una colazione E praticamente Ti arriva Questa colazione Del bar A Bella Via Del bar Messico Con tutto il cornetto Il cappuccino Con la roba Confezionato da regalo Confezionato da Enrico Con scritto Confezionato By Esi No questo no E poi Fa il DJ Infatti abbiamo fatto L'anteprima A Napoli Al modernissimo Dove c'era Enrico Faceva Ha fatto il DJ Ha fatto il DJ Quindi Alla fine della fiera Esi che è riuscito A fare il DJ Come sognava No ma lo fa All'intanto Lo fa ancora Lo fa ancora Sì 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 Non fa più Cassetti pirata Ma il DJ Lo fa Riperata Come DJ fa Insomma Gli è rimasto Però questo spirito Stando adotto Strana pure Insomma Qualsiasi cosa Che è rimasto Lavoro per la musica Sì sì Sicuramente Un bellissimo film Che è al cinema adesso Speriamo che appunto Rimanga E Ah una cosa Una cosa La scena Che nello scrivere Nel scriverla Vi ha fatto più ridere Sai quelle cose Che succedono sempre Che ridi per mezz'ora Perché già immagini tutto Forse il Quando fanno l'agguato Al marocchino Tirano l'antenna E frattase non perdonano Frattase non perdonano Forse questo Però cosa fanno Forse quella lì Però Ce ne sono varie In realtà Che abbiamo visto Allora Passiamo Alle domande serie Progetti per il futuro Armando Progetti per il futuro Guarda Ci sono altre Sceneggiature Che sto scrivendo Tratte da Storie vere Anche queste Quindi adesso Non posso dire niente Perché È ancora Troppo presto Però insomma Poi con i tempi Biblici del cinema Diciamo Tra 4 e 5 anni Uscirà Ah no Aspetta Mi faccio autopromozione Nel È l'inizio del 2024 Esce il mio primo romanzo Per Giunti Che ancora non ha un titolo Però Però vi faccio sapere Appena so il titolo Ve lo faccio sapere Potrebbe essere proprio Ancora non ha un titolo Questa è una buona notizia Quindi il suo romanzo Un romanzo Anche in Biblicia Da Giunti Esce i primi mesi del 2024 Che bello È un romanzo di finzione O Finzione Anche questo genere Boh Drama Di come si dice adesso Mezzo commedia Mezzo dramma E niente Basta Che bello Che bello Siamo Siamo molto contenti con te E Veramente Complimenti per la scrittura Poi riporta Questi complimenti Anche al regista Ovviamente Beh allora Grazie Armando Per essere stato Qui con noi Io come al solito Invito Gli ascoltatori A seguirci Sulle nostre pagine Social Sulla nostra pagina Vista Che a me è anche uscita La recensione scritta Di Mixed by Esi Per un maggiore approfondimento Se volete È lì La trovate lì Abbiamo anche Un canale di Youtube Dove ci sono Altri video Che accompagnano La nostra editazione E soprattutto Vi invitiamo Ogni giovedì Su Twitch Perché lì Faremo proprio Le serate Le nottate A parlare di cinema E serie tv Parliamo degli Oscar Parliamo dei film in uscita Diamo le notizie Prima degli altri Cerchiamo di farlo Almeno Quindi Grazie Armando Per essere qui Grazie Gabriele Per avermi Accompagnato In questa In questa avventura E noi vi diamo Appuntamento Al prossimo podcast Seguiteci E piaciateci Insomma Fateci conoscere Ciao Ciao Ciao